Ciao a tutti voi da Rosi, Alessandro ce la togliamo? Ce la togliamo, siamo distanti. Assolutamente, abbiamo naturalmente, rispettiamo i protocolli di sicurezza con la distanza. Ci troviamo in AutoPiù per l'appuntamento della nostra vetrina dell'auto, lascio subito la parola ad Alessandro. Buonasera a tutti, eccoci ritrovati in Citroen AutoPiù Bologna, nel cuore di Bologna, 200 metri dalla stazione. Abbiamo l'officina in via Bentini 111 a Corticella. Adesso andiamo a vedere la nuova C1, questa che abbiamo esposta in versione cabrio pronta per l'estate. All'interno ha uno schermo touch da 8 pollici con i comandi al volante e il bluetooth. Può essere anche nelle versioni normali fill e shine senza il tetto cabrio. In motorizzazione 1072 cavalli benzina. Può essere vostra a partire da 8.150 euro. Ed eccoci qui accanto a una splendida C3, ma so che c'è una grossa novità su questo prodotto, vero Ale? Sì, siamo in attesa della versione nuova e questa qua va in esaurimento scorti, quindi accorrete perché ne sono rimaste veramente poche. Assolutamente sì, quindi se vi piace questo modello naturalmente venite subito, ma se invece volete quello nuovo so che posso già ordinarlo in questo momento. E per il prezzo? Certo che sì, per il prezzo rimane uguale a quello di quell'attuale. Bene, quindi una grossa sorpresa per voi. Venite qui a scegliere la C3 che preferite. Accorrete, mi raccomando, perché ne sono rimaste veramente veramente poche. Ciao, sono Luca. Adesso vi presentiamo il subcompatto di casa Citroen, che è il C3 Cross. A partire da 13.950 euro possiamo avere tutte le dotazioni possibili di questo segmento, molto compatto e utile sia per il parcheggio sia per i lunghi viaggi. È un 4,15 metri, circa 17-18 chilometri con un litro, 5 porte e 5 posti. Si presenta con tre allestimenti, live fill e shine. Tutti e tre sono equipaggiati con le barre al tetto, la possibilità di avere Android Out, Apple CarPlay con mirroring e anche tutti i sistemi di dotazione di sicurezza. Questo mese, su tutta la gamma Citroen, il tasso è fisso al 5,99 e la prima rata è possibile a partire già da ottobre 2020. Questo mese, in occasione da non perdere, sono le nostre chilometri zero, che hanno già tutti gli eco-incentivi, anche per chi non ha vetture da demolire, sia nell'allestimento fill, sia nell'allestimento shine, disponibili sia benzina che diesel. Vi presento anche C4 Cactus, la compatta di casa Citroen, una berlina molto comoda ed elegante, comoda sia per chi lavora sia per la famiglia, con un bagagliario con una capienza di 420 litri. La sua particolarità sono i sedili memory per una comodità anche per i lunghi viaggi e lunghe percorrenze. Anche qua abbiamo a partire da 14.500 euro e abbiamo disponibile qualche pezzo a chilometro zero, immatricolate il 30 giugno, molto convenienti per un acquisto anche per un viaggio all'ultimo, ad agosto, in Italia. Anche il Citroen C4 Cactus è disponibile con un finanziamento con anticipo zero, con la prima rata a partire da ottobre, sia sulle nostre vetture nuove in protoconsegna, sia sulle chilometro zero, in modo tale che possiate partire per la vostra vacanza estiva in completa tranquillità e penserete alla rata prossimamente. Buonasera a tutti, sono Emanuele Mazzeo e andiamo a presentarvi il nostro SUV, casa Citroen, il C5 Aircross. Innanzitutto andiamo a presentarvi le motorizzazioni che presenta la casa francese, quindi abbiamo un benzina, 130 cavalli automatico e manuale, oppure 180 cavalli automatico. Per quanto riguarda invece il discorso diesel, 130 cavalli cambio manuale e cambio automatico, 1.500 turbodiesel, oppure il 180 cavalli, 2.000 turbodiesel. Altrimenti, novità di quest'anno, 2020, abbiamo finalmente anche noi il nostro ibrido, quindi alimentazione plug-in, quindi vi invitiamo presso la nostra concessionaria per un eventuale preventivo. Andiamo a presentare la nostra vettura, quindi macchina già equipaggiata con navigatore, climatizzatore automatico e tutti quanti i 21 sistemi di sicurezza, quindi dalla frenata d'emergenza in caso di collisione con un veicolo, un pedone o ostacolo, mantenimento della carreggiata, cruise control adattivo e riconoscimento dei cartelli stradali, dei limiti di velocità, molto molto comodo, specialmente per i velox. Altra caratteristica principale della vettura è il discorso delle sospensioni idrauliche che attutiscono tutte le varie buche, cunette che ci sono nelle nostre strade, quindi molto molto comodo. Un'altra particolarità della vettura sono i sedili scorrevoli singolarmente, perché la macchina riporta proprio 5 posti reali e una capacità di bagagliaio veramente spaziosa, sui 720 litri, veramente veramente spaziosa per un SUV di questa categoria, vedendo la concorrenza. Barre a tetto, ovviamente di serie, sull'allestimento Shine, sull'allestimento Feel e Live sono da aggiungere nell'eventualità e un'altra caratteristica principale sono tutti i sistemi di sicurezza, quindi anche l'angolo cieco, molto comodo per la visibilità nella vettura. Un'altra caratteristica principale della vettura è sempre il discorso dei sedili, molto confortevoli, il discorso advanced comfort, quindi memory, effetto memory, che c'è proprio nei materassi che abbiamo a casa, portato anche nei sedili della nostra vettura. Bene, allora non mi resta che dirvi che potete avere la versione C5 Aircross Live benzina, 130 CV a partire da 19.950 euro, con anticipo zero, con la data del finanziamento a partire, le rate, ad ottobre, altrimenti, versione plug-in, quindi la novità di casa Citroen, la rata avviene 325 euro al mese, sempre a partire da ottobre. Bene, ora andiamo a presentarvi il nostro berlingo, che è novità dell'ultimo restyling, come ben sapete abbiamo la misura M e la misura XL, entrambe le due misure abbiamo la possibilità di aggiungere due posti in più, quindi che la macchina può diventare un sette posti, quindi una maggiore capacità di carico all'interno della vettura. Ovviamente disponibile in diesel e benzina, ovviamente cambio manuale o cambio automatico, macchina come ben sapete, ben conoscete, la capacità e la caratteristica principale sono gli spazi interni e la modulabilità dei sedili posteriori, quindi sedili scorrevoli e abbattibili, proprio viene un piano completamente piatto. Sempre sul berlingo abbiamo tutti i sistemi di sicurezza, quindi la frenata d'emergenza, mantenimento della carreggiata, cruise control o cruise control adattivo. Il navigatore è un bellissimo, uno schermo 12 pollici, da poter collegare, nell'eventualità, telefonino, avere tutti i dispositivi Mirror Link, Apple CarPlay e avere il navigatore anche nell'eventualità proiettato presso il nostro schermo. La macchina, ovviamente vi ricordo che possiamo averla a 275 euro al mese, anticipo zero, sempre la prima varata ad ottobre 2020. Ora vado a presentarvi le nostre monovolume, quindi ce ne sono poche, ma Citroen continua, continuiamo a pensare alle famiglie, quindi C4 Space Tourer e C4 Gran Space Tourer, versione 5 posti, quindi la possibilità di averla sempre qui, diesel o benzina, quindi in 5 posti, oppure per le famiglie numerose abbiamo anche il 7 posti. 4,40 come lunghezza per il 5 posti e 4,60 sulla versione 7 posti, quindi abbiamo entrambe le versioni, ovviamente la macchina, il nuovo restyling che è uscito ormai da un po' di tempo, abbiamo doppio schermo a colori con navigatore e climatizzatore automatico e tutti anche qui la possibilità di aggiungere sistemi di sicurezza, quindi frenata d'emergenza, mantenimento della carreggiata, angolo cieco e praticamente possiamo averla in tantissime altre colorazioni, personalizzazione, quindi un cerchio da 17, un cerchio dal 16, un cerchio dal 19, quindi proprio a richiesta del cliente. Vi ricordo che proprio questo mese, il 30 giugno, siamo andati anche a fare delle macchine chilometri zero, sia sulla versione 7 posti che sulla versione 5 posti, quindi non mi resta che invitarvi presso la nostra concessionaria a fare un eventuale preventivo e a vederla questa macchina perché è veramente spaziale, diciamo, proprio space. e vado a ricordarvi la rata è 335 euro al mese, sempre qui a partire da ottobre 2020, le prime rate e non mi resta che salutarvi e di seguirci presso le nostre piattaforme su Instagram e su Facebook e di guardare il nostro sito www.autopiu.net per vedere le varie occasioni. Non mi resta che salutarvi e alla prossima. Citroen ha capito che il segmento dei SUV medi è strategico nel mercato e quindi ha sviluppato la bellissima e comodissima Citroen C5 Aircross. Nella motorizzazione del 1.5 da 130 cavalli eco diesel potete noleggiarla a 283 euro al mese con manutenzione e casco completa. Non poteva mancare naturalmente la vettura più venduta di Citroen, la Citroen C3 che a settembre uscirà con un restyling. Le ultime vetture in allestimento fill con il motore a 100 cavalli diesel ecologico potete guidarle con soli 213 euro al mese con manutenzione e casco incluse. Con soli 22 euro in più potete guidare le ultime versioni Shine. Per servirvi meglio e in sicurezza possiamo concordare un appuntamento presso la nostra sede di via Bentini 111 a Bologna in zona corticella oppure una videocall. Alessandro Suppini e Stefania Lirent, la vita in tempo di coronavirus è già abbastanza complicata ma il noleggio te la semplifica. Ciao, buonasera a tutti, sono Lorenzo Tassi, specialista di veicoli commerciali per il marchio Citroen AutoPiù Bologna. Questa sera sono a fianco del nostro furgone Punti di Damante letto One of the Year nell'anno 2019, Citroen Berlingo. Questo qua nello specifico è un esemplare a passo lungo, vi ricordo che nel mezzo ne esistono due tipologie, passo corto e passo lungo, abbinabili ai diversi motori piuttosto che cambio manuale o cambio automatico. Questo è un mezzo che della versatilità da sempre ha fatto il suo punto di forza, abbiamo possibilità di trasportare due bancali in questa versione qua a passo lungo e abbiamo il vano di carico più ampio della propria categoria, oltre a un insieme di dotazioni tecnologiche che veramente per tanti furgoni si sognano. In mezzo abbiamo un'offerta che è clamorosa sul mese di giugno, abbiamo tanto prodotto disponibile, vi ricordo che le fabbriche sono chiuse, quindi dobbiamo lavorare su quello che c'è di disponibile, ma non preoccupatevi perché con il nostro stock riusciamo a venire in conto a tutte le vostre esigenze. Nella versione a passo corto partiamo dai 14.500 euro, IVA inclusa, per un furgone a passo corto abbinato al motore da 75 cavalli, comunque già completo di sensori, tre posti in cabina piuttosto che climatizzatore manuale, cruise control, radio da bluetooth, poter andare avanti all'infinito per elencare la lista degli equipaggiamenti che questi mezzi hanno, perché comunque sono, vi ricordo, delle macchine con le lamiere intorno, non sono dei furgoni, con la robustezza del furgone ma col comfort di una vettura. Di conseguenza venite a trovarmi in via Paolo Bovicampe G6 oppure fissiamo un appuntamento, vengo io a trovarvi nelle vostre aziende, non è assolutamente un problema, non lasciatevi spaventare dal fattore permuta, abbiamo la supervalutazione dell'usato sull'acquisto di un furgone nuovo Citroën, quindi comunque sia che sia un berlingo, che sia un jumpy, che sia un jumper o una C3 van, non c'è nessun problema, sono qua a disposizione per venire incontro alle vostre esigenze di mobilità aziendale, quindi chiamatemi e fissiamo un appuntamento. Mi raccomando, fatturate, fatturate tanto perché abbiamo bisogno di ripartire tutti quanti. Buona serata. Ed ora a debita a distanza, purtroppo Ignazio, pazienza, dobbiamo rispettare queste regole, ci troviamo in via Bentini nel centro dell'usato e che bel centro. Hai visto? Qui da noi, come stai vedendo, la scelta è veramente incredibile, parliamo di più di 200 macchine rosi pronte a consegna, che riescono a trovare veramente qualsiasi tipo di esigenze che il cliente ci chiede. Da noi trovate macchine piccole, grandi, in media taglia, ma soprattutto, questo lo voglio sottolineare, con i prezzi tra i più bassi in Italia, perché la scelta è veramente enorme. Io l'unica cosa che ci tengo a dire è di venirci a trovare, perché solo venendoci a trovare riuscite a capire la scelta che veramente potete trovare qui da noi. Trovate qualsiasi marchio, quindi parliamo di prodotto Peugeot, prodotto Opel e prodotto Citroen, perché questa è la sede, ricordo, di Autopiu, Cisa 2000 e Stefan. Perciò venite a trovarci. Questa è una sfida che lancio, Rosi, perché sono certo di riuscire a trovare la macchina adatta alle vostre esigenze e anche al vostro gusto, perché oltre, chiaramente, la parte del bisogno che ha il cliente, c'è anche una parte di gusto personale, ovviamente, perché oltre a fare acquisti mirati su prodotti diversi, li facciamo anche su, chiaramente, quelle più carine, quelle più belle, quelle più sfiziosi. Beh, io ne ho viste qua, di tutti i tipi, di tutti i colori, perché c'entra anche quello, magari mi piace una macchina, mi piace di un determinato colore, qui trovo veramente di tutto. Esatto, quindi cos'altro dire, ci troviamo in via Ventini 111 a Bologna, siamo facilissimi da trovare e soprattutto da contattare. Aspetto tantissime telefonate, qua da noi ci sono tantissimi ragazzi che sono a vostra disposizione e che aspettano, appunto, di sentire quale può essere la macchina giusta per voi. Visitate il sito, naturalmente seguite anche tutto quello che possono offrirvi sulle varie piattaforme social, ma soprattutto venite qui a conoscere Ignazio e gli altri collaboratori. Assolutamente. A presto. Un saluto a tutti dall'Auto Più di Bologna, vi aspettiamo numerosi per venirci a trovare. Ciao! Buonasera a tutti, sono Emanuele Mazzeo, vado... ...le chilometro zero, quindi anche che mi sta suonando il telefono però... Aspetta. Dobbiamo già ordinarlo per il prezzo... per farvi lo stesso prezzo della nuova su quella... Non mi viene, no!